ciao a tutti bentornati sul canale allora oggi faremo un video all misto delle ultime cosine che ho comprato e niente di che un po di abbigliamento un paio di scarpe un po di make up un po di skin care che ci sta sempre bene e allora partiamo con abbigliamento ho preso questa camicetta qui di ziki vedete carina con la manica mi piace molto questo colore pagata a 16 euro c'è anche scritto color caffè e mi piace molto perché la prossima settimana il mio compleanno e quindi volevo metterla appunto diciamo per festeggiare e penso la metterò con un paio di gins che adesso vi faccio vedere che ancora non ho messo è molto carina perché ho uno stivaletto dello stesso colore ci metterò una giacca sopra tanto faccio una cosa molto tranquilla e quindi niente questa devo dire molto carina certo ovviamente 16 euro super sintetica ma tanto la metterò due volte nella mia vita quindi va benissimo così e poi continuiamo con l'abbigliamento scusate se sparisco ma ho le cose qui sotto vi faccio vedere due paglia di jeans il primo è questo preso da h&m che allora adesso poi ve lo faccio vedere magari bene è un classico jeans diciamo stretto sotto un po un po man fit ho staccato il cartellino quindi non so quale sia il modello esatto ma mi sembra fosse man fit in questa colorazione che mi mancava e mi piace molto dietro è semplice e a vita alta io ho preso una taglia 40 e molto carino pagato mi sembra 27 99 una cosa del genere 28 euro il secondo paio di jeans che è quello che voglio abbinare al alla mia camicia è questo qui di zara che ancora non ho messo quindi di questo posso dirvi tutto quanto che è questo qui il colore è molto simile a quell'altro però modello è completamente diverso perché sotto è leggermente a zampa e mi piace molto molto carino il modello è flare flare fit la taglia è sempre la 40 e era in sconto e l'ho pagato 19 95 è molto carino molto comodo sempre vita alta perché io uso solo da alta e anche un pochino elasticizzato e devo dire molto carino con un bel effetto perché ripeto sotto è leggermente scampanato e rimane un pochino lunghetto quindi anche con un tacchettino ci sta molto bene passiamo poi a un paio di scarpe come al solito che non mancano mai e visto che sono tornate di moda mi sono comprata le adidas campus che io avevo qualche anno fa in blu e ovviamente ho buttato perché sono stupida e ancora non ho imparato dopo tutti questi anni che la moda ritorna sempre e quindi niente ho preso queste questo color allora sul sito l'ho presa su zalando l'ho pagata mi sembra una novantina di euro 80 90 prese su zalando dal sito il colore sembrava più sul bordeaux se riuscite a vedere invece un po più violaceo diciamo dal vivo però devo dire che non mi dispiacciono le gazelle cioè sono comodissime morbidissime io le adoro le ho già messe ovviamente il mio numero è 38 e due terzi di tutti di tutte le adidas e sono indecisa se prendermi un altro paio se prendermi le campus quelle nel colore classico bianco bianche nere oppure se prendermi le special che a quanto ho capito diciamo che sono tutte molto simili come concetto come modello non ho capito le special dovrebbero essere dovrebbero avere la para un pochino più alta rispetto alle gazelle e alle campus vediamo quale delle due per il momento mi tengo queste e poi più in là magari deciderò quale delle altre due e comprarmi finiamo quindi uno molto veloce ma adesso volevo farvelo vedere perché poi tra l'altro ho anche ieri fatto un altro il skin care e makeup su stylevana che quello però ci metterà un bel po ad arrivare quindi quello poi ve lo filmerò e sono passata da sephora e ho preso due prodottini allora il primo è questo che è la crema contorno occhi di the in key list al retinolo e a me questo è un brand che piace molto e che non costa tanto un po come the ordinary e questa qui al retinolo non l'avevo mai provata avevo provato quella alla caffeina e mi ero trovata bene quindi siccome dovevo comprarmi un contorno occhi ho detto va bene provo questo visto che l'età avanza e quindi ovviamente il retinolo mi serve usandolo anche come siero per il viso e questa l'ho pagata 13 e 90 14 sì 14 euro diciamo poi vabbè io avevo il 10 per cento di sconto con la card con la sephora card e poi invece ho preso questo prodottino nuovo che siccome io poi ovviamente sapete che sono fan di cose per le labbra e per le mani quindi balsami oli per le labbra e creme per le mani ho preso questo prodottino qui nuovo di lanolips che non avevo mai visto e non avevo mai provato che è lip water refreshing lip hydration fluid è un prodottino appunto fatto così con l'applicatore praticamente di plastica è il primo che mi capita è trasparente se lo mettete sulla mano perché io adesso ce l'ho anche su però è andato un po via quindi non si vede molto e se lo mettete sulla mano ha dei micro glitterini riflessi infatti quando l'ho messo sulla mano prima di provarlo sulle labbra ho detto oddio mio cosa ho comprato invece poi messo sulle labbra non si nota quindi sicuramente lo terrò nella mia trousse perché lo uso appunto mentre mi trucco per idratare le labbra è molto idratante non è per niente appiccicoso infatti si chiama lip water è quello che mi ha spinto a comprarlo e quindi lo metterò appunto nella mia nella mia trousse e lo metterò visto che l'olio quello di astra mi sta per finire lo metterò per idratare le labbra mentre mi trucco questo l'ho pagato 14,50 a prezzo pieno ovviamente poi mi hanno fatto sempre il 10% di sconto totale con la tessera di sephora poi ho comprato queste non ve le faccio vedere ma ce l'ho addosso sono le classiche magliettine queste di H&M pagate 6 euro 7 euro ce n'ho una così e una rosa chiaro che sono magliette a mezze maniche classiche che io metto tutti i giorni ce l'ho nera bianca di tutti i colori che compro a ciclo ovviamente e niente oggi è stato un super video veloce e spero vi sia piaciuto questi sono i miei ultimi acquisti poi ripeto vi faremo insieme l'unboxing dell'ordine che ho fatto su Stylevana e la settimana prossima è il mio compleanno appunto quindi sicuramente vi registrerò un mi preparo con voi edizione compleanno quindi diciamo un trucco un po' più da sera invece dei miei soliti trucchi giornalieri e poi vi farò magari un video anche se vi fa piacere sui miei regali di compleanno e questo è tutto vi mando un bacio grande ricordatevi di iscrivervi al canale commentate fatemi sapere sempre le vostre opinioni su quello che ho comprato sui video che vorreste vedere consigli su come migliorare impostazioni luci oggi sono in piedi per farvi vedere appunto l'abbigliamento ho cambiato quindi un po set fatemi sapere anche la luce come va e niente noi ci vediamo al prossimo video ciao a tutti